Allora, diamo il buon pomeriggio a Giuseppe Marinaro, praticante e avvocati di Palermo. Ben ritrovato Marinaro, ci eravamo sentiti un po' qualche tempo fa, qualche mese fa. Buonasera a tutti, grazie di nuovo per avermi dato la possibilità di raccontare cosa sta succedendo. Ecco perché noi ci eravamo sentiti prima ancora che fossero pubblicati, fossero ultimate le correzioni degli iscritti dell'esame di abilitazione del 2019. Sono stati pubblicati con un esito veramente molto scarso. Diciamo che all'esame orale c'è stato l'accesso da parte di aspiranti in percentuale inferiore al 35% a Palermo. Questa è la percentuale. A Palermo in realtà qualcosa di più. In Italia la media italiana è esattamente quella che ha detto lei. Ma è molto bassa la media italiana del 35%, tanto che alcune associazioni, alcune sigle, quelle di associazione italiana praticanti, ha fatto un ricorso. Rispetto intanto due domande subito. Rispetto a questa media così bassa del 35%, perché? Un'idea ve la siete fatta? E successivamente siete d'accordo con i ricorsi che vengono portati avanti da alcune sigle di praticanti avvocati? Sì, dicevo inizio dalla seconda domanda. Nel senso, noi di APRA non abbiamo approfondito gli aspetti del ricorso al Presidente della Repubblica, perché è certamente una materia abbastanza complessa. Quindi devo dire, non so quali possono essere i risvolti di questo ricorso straordinario. Relativamente invece alla prima domanda abbiamo un'idea molto chiara. Cioè il 35%, forse qualcosa di meno, è la media nazionale degli ammessi all'orale. E questo certamente crea un problema a tutti questi ragazzi, a tutti questi dottori, che sono quasi professionisti del diritto, che hanno certamente fatto un percorso molto severo. perché dobbiamo ricordare che in Italia ci sono dei fori, per esempio anche quello di Palermo, Roma, Milano, Napoli, che ospitano i migliori professori del diritto. Eppure il praticante avvocato si trova alla fine di un percorso altamente formativo zavorrato da questo esame. Noi di APRA non pensiamo che ci siano particolari complotti, insomma chiusure ai praticanti avvocati. Crediamo piuttosto che ci siano delle modalità relativamente a questo esame di abilitazione che forse sono un po' obsolete. Anacronistiche forse. Sì, anacronistiche. Ma noi non ce la prendiamo con nessuno. Vorremmo semplicemente che per la prima volta, forse nel 2018, si era tentato di fare un tavolo. Ma dicevamo questo, abbiamo fatto una diretta con tutte le associazioni di praticanti avvocati. Abbiamo detto, io ho fatto presente proprio questo. Forse è la prima volta che tutti i praticanti si fanno avanti per tentare di riformare questo esame. Ora magari vedremo quali sono le proposte di APRA e anche di altre associazioni. Quindi noi non crediamo che loro, come si dice spesso, loro non vogliono farci entrare. Alla fine, se ci pensiamo anche da un punto di vista economico, facendo un ragionamento banale, dico io, non avendo mai pagato la cassa forense da praticante... Assolutamente, più avvocati entrano e più con i soldi ci sarebbero, ovviamente. Esatto, anche perché il mercato, fondamentalmente noi, passando l'esieme di abilitazione, non abbiamo diritto a nessun stipendio, non vinciamo un concorso. Mercato libero. Poi l'inserimento del mercato dipenderà dalla professionalità, dai valori psicologici, dal rapporto con il cliente. E quindi, fondamentalmente, diventare avvocati non va a ledere i diritti di nessuno. Anzi, come dicevamo, per la cassa forense, se vogliamo fare un esempio molto semplicistico, non può che essere un maggiorare le entrate che giustamente un avvocato deve pagare. Quindi noi crediamo realmente che la causa sia solo una. Un esame di abilitazione non aderente a quella che è la realtà professionale, anche complesso nelle modalità, complesso nelle correzioni e non aderente alla realtà professionale. Perché? Perché noi dobbiamo fare tre atti scritti e l'esame orale. Di questi tre atti scritti abbiamo due pareri e non si comprende perché, ad esempio, qui non si possa scegliere che tipo di parere fare. Cioè, per quanto riguarda l'atto, questa possibilità è data. Si può scegliere un atto o di penale, o di civile o di amministrativo. Per quanto riguarda il parere, no. Anche sull'essenza del parere. Certamente l'avvocato oggi non vive più di pareri. Forse 50 anni fa, prima di intraprendere un'azione legale, veniva chiesto all'avvocato il parere. Oggi magari meno. Però il parere ha sempre un senso, perché comunque bisogna esprimere un ragionamento giuridico che poi comunque all'avvocato serve nell'argomentare ricorsi e vari atti. Però ci chiediamo questo. Perché non scegliere? Alla fine un avvocato, sempre rientrando in quel concetto di specializzazione, di professionalità, si specializza in uno dei due macrosettori o tre. O penale o civile. Non farà mai, quasi mai, tutto. Quindi perché non dare la possibilità di, già dalla pratica, iniziare a scegliere un percorso e all'esame di abilitazione portarlo a termine con la scelta di un parere. O di civile o di penale. E questo andrebbe anche a semplificare, non soltanto la vita del praticante, ma anche la vita delle commissioni, che non si ritroveranno migliaia. Le varie commissioni corti d'appello che poi si ritroveranno a correggere appunto gli elaborati scritti. Questo assolutamente. Un'altra cosa le volevo chiedere, Marinaro. Le chiedo poi anche le proposte. Però il presente, anche perché il passato ha portato ad uno slittamento di quello che sarà il futuro molto imminente, ossia l'esame di abilitazione 2020. Ad esempio, un'altra cicla, l'UPAV, propone l'abilitazione con una prova scritta e l'orale. Questo perché? Perché perdurando l'emergenza Covid rimane l'incognita del distanziamento. Sì, certamente. Noi ci siamo sentiti proprio ieri. Abbiamo fatto una bellissima diretta. Ma noi non crediamo nell'abolizione dello scritto, ma neanche tutte le associazioni. Io ho fatto presente anche questo. Sarebbe bello, perché poi il mezzo telematico è splendido, ci permette di conoscerci anche in periodi di crisi sanitaria e anche di grossi distanziamenti proprio geografici. Trilobietà territoriali, certo. Esatto. Però poi a un certo punto sarebbe davvero interessante incontrare magari tutti i referenti delle associazioni praticanti per dettare le linee guida, perché alla fine poi la politica non può ascoltare e accogliere qualunque richiesta. Dovrebbe essere una richiesta ben indirizzata. Una sintesi. Quale è una sintesi poi? Per esempio questo discorso dello scritto è un qualcosa che noi avalliamo, come detto, nel senso un parere, magari anche un atto, e poi direttamente l'orale. Un'altra riforma, o meglio un altro punto della riforma, potrebbe essere per esempio quello di consentire al candidato che ha passato lo scritto e non passa l'orale, di rifare l'orale. Se è stato accertato che sa scrivere, perché non dare la possibilità di fare direttamente, magari per un altro anno, per un'altra singola sessione, l'orale. Senza dover rifarsi per forza. Senza dover rifare gli scritti. E siamo sempre là. Questo va a snellire comunque la procedura di correzione. Anche perché comunque un avvocato che si ritrova a dover, un praticante che si trova a dover sostenere più prove di esami di abilitazione, è un avvocato che entrerà nel mondo del lavoro, chiaramente sempre più tardi. Questo apre, scusi se l'interrompo dottore, questo apre un altro capitolo, che è quello dell'armonizzazione europea. Dicevamo sempre ieri che l'Italia è un ordinamento giuridico particolare, non è possibile paragonare la giurisprudenza, il mondo del diritto italiano, con quello di altri paesi, in negativo e in positivo. Però è chiaro che l'Unione Europea deve dimostrare di essere Unione Europea non soltanto dal punto di vista economico, che spesso non dimostra neanche in questo campo. Però è chiaro che anche da un punto di vista di professioni, un praticante avvocato italiano deve avere gli stessi quantomeno tempi di inserimento nel mondo del lavoro, della professione forense, che ha un praticante avvocato tedesco, spagnolo o rumeno. E certamente noi non siamo, ripeto, assolutamente favorevoli all'abolizione dello scritto per fare l'esame a crocette, per esempio, perché la delicatezza, la professionalità di un avvocato non può essere ridotta a questo. Però è chiaro che va assolutamente snellito. Infatti ci stiamo sedendo diversi esponenti delle associazioni, e io ho fatto anche una proposta. Riceveremo un indirizzo mail che stiamo per creare, c'è per esempio riforma avvocato chiocciola.gmail.com, una cosa del genere, non è ancora ufficiale, lo pubblicheranno. Delle proposte anche da chi non è legato alle associazioni e vuole lo stesso esprimere un punto. Ovviamente filtreremo e cercheremo di presentare alla politica una riforma unica per questo esame. Che, ripeto, non preverà la porzione dello scritto, secondo almeno la mia visione. Assolutamente, ma secondo quello appunto la domanda che vi ho fatto precedentemente, che poi è una proposta che ho trovato scritta dall'UPAP, ma che comunque trova con firme nell'APRA, nei praticanti e avvocati di Palermo, di cui fa parte appunto il dottor Marinaro. La ringrazio Marinaro, è sempre stato un piacere, è sempre un piacere. Grazie a lei dottore. Spero di aggiornarci appena esce il bando, insomma, analizzarlo insieme. Magari anche sapere come si sta muovendo questo coordinamento da parte dei rappresentanti della Valessica e praticanti a livello nazionale. Perché questa è una bella idea, eh? La conclusione la vorrei fare proprio sull'uscita del bando. Si è parlato di tutto, delle professioni, per esempio, abilitazione delle professioni sanitari, si è parlato dell'inizio della scuola, non si è parlato di come noi, per esempio io per la prima volta, dovrò andare a fare l'esame con questa emergenza sanitaria. Questa piccola defiance del governo ci lascia un po'... Poi tanto piccola non è perché riguarda migliaia di persone, quindi tanto piccola non è assolutamente. Grazie Marinaro, buona serata. Grazie a lei, a presto.